Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, eccoci ad una nuova puntata sulla scoperta dei componenti collegabili e pilotabili con Arduino e oggi vedremo una lezione insomma abbastanza importante a livello appunto di anche di peso e di difficoltà che è quella che riguarda un tipo particolare di motore, sono i cosiddetti motori passo passo o anche conosciuti con il nome di stepper motor stepper motor o motori in italiano passo passo, semplicemente perché? Perché lavorano per step, quindi stepper motor, o comunque in italiano lavorano per passi allora noi abbiamo conosciuto diciamo la lezione precedente, i motori invece in corrente continua, brevemente ricordiamo che c'è una grossa differenza tra questi sia per quanto riguarda il pilotaggio, molto più semplice per i motori in corrente continua, un po' più complesso per quanto riguarda il passo passo ma soprattutto cambiano le disegnazioni d'uso, mentre infatti in un motore in corrente continua noi semplicemente lo facciamo girare con una certa velocità avanti e indietro senza avere in realtà un controllo all'interno del singolo giro per vedere veramente i movimenti, quindi i gradi con cui appunto il mio alberino centrale si sposta con gli stepper motor invece facciamo un pilotaggio di qualità, ok? cioè andiamo a verificare realmente di quant'è lo spostamento del mio albero centrale con dei passi ben misurati, ben precisi, legati appunto al numero di passi come dice la parola stessa e di conseguenza legato all'angolo che il mio motore sta percorrendo comunque arriveremo a capire piano piano come funziona senza spaventare nessuno ci arriveremo magari un po' per gradi, oggi la mia idea era quella di presentare questo motore che sicuramente trovate nei kit di Arduino, un motore a 5V solitamente viene dato con un connettore che lo interfaccia direttamente al suo driver di pilotaggio poi spieghiamo un attimo che cosa sono i driver di pilotaggio e quindi una volta che accoppio il motore col driver di pilotaggio non mi resta che andare su Arduino per andare a comandare questo driver, alimentarlo e a quel punto il motore funziona, quindi una passeggiata in realtà io vorrei un attimo parlare anche dei motori, capire che cosa c'è dentro perché la curiosità di capire come si fa attraverso un'alimentazione quindi una tensione a fornire un movimento meccanico alla fine è la base di tutto e cosa cambia soprattutto tra questi in corrente continua e questi passo passo allora l'idea è questa, prima di tutto abbiamo una classificazione la studieremo magari con calma in una puntata dedicata questo ad esempio, se lo riuscite ad apprezzare, è composto da 5 fili questo sicuramente è un motore unipolare unipolare che può anche però lavorare in bipolare ok? adesso spieghiamo cosa vuol dire può bipolare un altro motorino adesso vediamo se ne trovo uno ecco questo qua che è un motore di penso che sia di un lettore floppy di un vecchio computer questo vedrete che ha 4 solo 4 fili il principio di funzionamento vedremo abbastanza simile cambia qualcosina sul pilotaggio con 4 fili sicuramente è un motore invece bipolare abbiamo già capito cosa vuol dire bipolare o unipolare da altre lezioni che abbiamo fatto in particolare è riferito alla polarità con cui io vado a alimentare in questo caso gli avvolgimenti del motore il motore come è fatto? in entrambi i casi unipolare e bipolare vi ricordo che c'è una parte non so se ancora qua si è aperta sì c'è una parte diciamo esterna del mio motore che è statica prende il nome di statore e invece all'interno c'è bellissimo il disegno ok all'interno c'è una parte invece che ruota ok e questo invece viene chiamato il rotore funziona così anche per quanto sia per quanto riguarda i componenti corrente continue ma è anche per quelli passo passo per gli stepper motor cosa cambia tra unipolare e bipolare? o in generale tra prima facciamo la differenza tra gli stepper motor e i motori corrente continuo e stepper motor sono fatti così hanno sicuramente più di un avvolgimento quindi poi vediamo distinzione unipolare o bipolare allora hanno un avvolgimento almeno due avvolgimenti poi vedremo che in realtà ne hanno molti di più e questi avvolgimenti sono almeno quindi i nostri quattro fili solitamente venendo indicati con che so a più a meno b più e b meno ok e qua questi rappresentano diciamo quello che è distribuito sullo statore qua all'interno invece c'è il mio rotore la parte solitamente a magneti permanenti perché ricordiamo che stiamo utilizzando praticamente tutte le proprietà dell'elettromagnetismo quindi abbiamo semplicemente un campo magnetico che viene prodotto dai miei avvolgimenti e di conseguenza ho una forza che viene sviluppata praticamente quando in questo rotore viene fatta passare corrente c'è una forza che lo fa che lo fa ruotare ci sono dei cuscinetti insomma c'è tutta la parte emomeccanica ma magari un giorno ne smontiamo uno lo vediamo lo vediamo all'interno quello che ci interessa capire è che io alimentando praticamente questi questi filamenti vado in qualche modo a produrre qua un campo questo campo lavora sulla situazione che ho sul rotore e quindi lo farà appunto ruotare quindi alimento questo ok fa un passo poi alimento questo ok fa un altro passo poi alimento questo fa un altro passo ancora e via la successione di questo mi fa vedere i vari movimenti ovviamente non è così semplice perché questo che ho disegnato ad esempio potrebbe essere a 4 fili quindi il caso quindi unipolare 5 o più fili vedremo che arriva 5, 6 o 8 fili invece l'unipolare poverino è quello che rimane con 4 fili quindi questo è l'esempio di un classico bipolare cosa vuol dire? vuol dire che per funzionare non so, cerco di farlo abbastanza breve devo invertire la polarità tra questi due cosa vuol dire? vuol dire che qua io supponiamo che funziona a 5 volt io do 5 volt così allora il mio rotore fa un passetto ok? a questo punto tolgo l'alimentazione da questo do l'alimentazione da questo con un certo verso poi capiremo come dare il verso ad esempio più 5 volt in questo verso e lui fa da qua un altro passo poi ritorno ad A a questo punto do l'alimentazione però non più in questa direzione ma in quest'altra direzione ok? bipolare perché prima era così ora è con la polarità opposta allora lui da questa posizione farà un altro tac questo ovviamente non ne va niente cosa succede se prima avevo dato una tensione diciamo da qua a qua ora dovrò dare una tensione inversa per fargli fare l'altro scatto quindi 4 passi distinti che poi si ripetono in loop in teoria all'infinito o fino al numero di passi che io voglio fare ok? questo è quello che succede nel bipolare quando cambia la polarità vediamo invece quello unipolare l'unipolare solitamente sono i più comuni sono a 5 o 6 fili ma c'è anche quello a 8 fili che ha praticamente più step però facciamo le cose più classiche allora come funziona? esattamente la stessa cosa di prima ho i miei avvolgimenti soltanto che i miei avvolgimenti in questo caso sono divisi a metà quindi ho all'estremo A più e A meno facciamo l'orizzontale così è più chiaro magari il disegno ok? qua ho l'interruzione e qua riprende il filamento in modo tale che qua ho B più e B meno questi due punti che stanno esattamente a metà strada tra gli avvolgimenti che noi dovremmo riconoscere possono essere o presi singolarmente e a questo punto ho prima coppia 1, 2, 3, 4, 5, 6 oppure questi due sono cortocircuitati assieme come in questo caso praticamente di questo motore e qua si darà sempre la V in ok? perché si chiamano unipolari? perché nel singolo tratto di filamento la polarità sarà sempre la stessa io do sempre alimentazione positiva quindi in questo caso come in questo motore vedremo i 5 volt qua al centro e allora io alternativamente metterò a massa questo quindi questo va a massa fa il primo tratto poi metterò questo a massa e fa il secondo tratto e così via ok? con sempre la stessa applicazione quindi da 5 volt qua verso massa 5 volt verso massa 5 volt verso massa 5 volt verso massa questi sono i vari passi evidentemente è molto più comodo pilotare praticamente un unipolare rispetto al bipolare però vedremo di farlo in entrambi i casi tagliamo un attimo corto con la teoria mamma mia quanti passi fa un motore passo passo? allora ce ne sono di diversi tipi i più comuni andiamo sempre generalizziamo su quello che si trova normalmente in commercio hanno circa 200 passi per fare 360 gradi quindi un giro completo in genere hanno bisogno di 100 passi ovviamente sto parlando dei motori assiali cosa vuol dire? sono i motori che hanno l'albero che è esattamente al centro dove c'è il mio rotore in questo caso vedete che non è un motore assiale perché il mio albero è spostato di rotazione perché qua dentro ci sono degli altri ingranaggi che fanno in modo che nonostante sia un 200 passi questo all'albero mi dà circa 2048 step ok i passi questo perché? perché vi permette di avere una precisione ancora molto più ampia rispetto ai gradi che faccio con ogni passo con 200 passi quindi 360 gradi diviso 200 arriviamo circa a 1,8 gradi a passo ok? quindi ad esempio facciamo un esempio se io voglio fare una rotazione dell'albero di 90 gradi quanti passi devo fare? beh sicuramente dovrò fare 1,8 dovrò fare i miei 90 gradi diviso 1,8 da qua otteniamo esattamente 50 passi perché se ne abbiamo 200 per fare 360 gradi un quarto cioè 90 sarà un quarto di 200 quindi 50 bene e così noi possiamo fare e così noi possiamo far fare al nostro motore dei movimenti molto molto precisi per quello posso dire che questi motori sono quelli più utilizzati da un punto di vista appunto della costruzione di macchinari tutte le macchine cosiddette a controllo numerico si basano su questo tipo di motori ma noi lo vediamo ormai lo stiamo conoscendo nel mondo ad esempio delle stampanti 3D il controllo della testina che rilascia il filamento o il filamento stesso che passa nell'estrusore è tutto pilotato da motori passo passo perché abbiamo una precisione veramente veramente notevole bene cerchiamo ancora di tagliare corto noi avremo il nostro arduino di pilotaggio ma arduino non agisce direttamente sul motore nel nostro caso nel caso più semplice proprio per non farci spaventare dal pilotaggio di questi motori ma utilizziamo un driver quindi arduino va a comandare un'altra scatolina che è di questo tipo si chiama driver in particolare questo driver ha vedete qua una sigla ed è il ZC ZC trattino A0559 se andate a cercare nelle specifiche ci sarà scritto questo qua è un driver che permette di pilotare motori a 5 volt si basa su un componente integrato questo chip non è in realtà integrato a foro passante però poco ci interessa e questo è un ULN 2003 questo è basato sul chip U LN2003 che cos'è questo ULN? è semplicemente una serie di transistor sono una serie di transistor mi sembra che sia un array di 7 transistor questi che servono appunto per il pilotaggio cos'è un pilotaggio? driver quindi dall'inglese driver è chi pilota chi guida il guidatore ci permette di in questo caso alimentare le varie fasi che abbiamo detto a più o a meno in questo caso vi ricordo essere un unipolare alternerà le fasi e noi lo vedremo praticamente su questi piccoli led man mano che questi si accendono che piedinatura usiamo per comandare questo driver? perché il motore a questo punto non ci interessa già più ma noi lavoreremo solo con questo vedete che questo driver ha qua nella serigrafia con appunto in N1 N2 N3 N4 quindi ha 4 piedini di pilotaggio ok? che andranno su 4 pin digitali di Arduino e poi ha altri 2 piedini se qua guardiamo la serigrafia c'è un ponticello un piccolo jumper questo jumper ci dice ma come lo vuoi alimentare questo driver a 12 volt o a 5 volt? la scelta ovviamente è dettata dal motore io ho un motore a 5 volt e lo alimenterò a 5 volt quindi in questo caso posso vedere come l'alimentatore l'alimentazione la posso prendere direttamente ad Arduino se avessi bisogno anche se solitamente si tende a isolare il circuito di alimentazione dal circuito di pilotaggio ok? questo per evitare appunto che ci siano delle correnti troppo forti e che vadano a bruciare la scheda ma noi per un breve periodo possiamo usare tranquillamente 5 volt di Arduino se invece avessi un motore a 12 volt a quel punto togliere il jumper da questo ponticello qua e ponticellerei i 5 volt così in questo modo e darei l'alimentazione su questi due jumper ok? detto questo la parte circuitale è veramente banale io ho bisogno in questo caso l'unica accortezza rispetto a quello che abbiamo visto prima è che devo usare dei jumper che in questo caso sono dei femmina maschio perché? perché qua io ho bisogno praticamente di un attacco femmina a differenza della basetta che utilizza invece solo dei componenti dei cavi maschio quindi in questo caso vediamo un po' per non confondere i colori ecco facciamo così quindi io sto già collegando le 4 adesso vedremo di collegare direttamente ad Arduino collego qua gli altri due e poi andiamo a guardare la serigrafia quindi in questo caso ho messo vedete che qua c'è scritto meno a sinistra quindi vediamo se riesco a farvelo apprezzare mi sto muovendo anche tanto quindi ho la parte meno che in questo caso è il verde la parte più che in questo caso è il blu quindi me lo scrivo meno è il colore verde e il più è il colore blu questa è un'alimentazione a 5 volt poi invece questi vanno in cascata N1, IN1 praticamente è questa specie di fucsia blu e poi c'è un grigio e poi c'è un bianco questo andiamo a collegarlo direttamente su Arduino quindi 4 di pilotaggio ad esempio me li vado a prendere sui pin digitali posso pensare che so di usare 8, 9, 10, 11 ovviamente devo stare attento alla posizione quindi il fucsia lo metto su 8 il blu lo metto sul 9 poi abbiamo il grigio lo mettiamo sul 10 il grigio va con un grigio, sì il grigio lo mettiamo sul 10 e il bianco lo mettiamo su 11 quindi questi ce li dobbiamo ricordare adesso che andiamo praticamente su Unblock a fare il pilotaggio dopodiché cosa facciamo dobbiamo collegare ancora l'alimentazione in questo caso abbiamo detto quindi che il verde e il negativo va a massa e il blu prende i 5 volt quindi il verde e il negativo va a massa e il blu sono i 5 volt quindi GND è il 5 volt ok, il collegamento è praticamente finito dovrei provare ad alimentarlo prima di andare da Unblock per scrivere il codice ma supponiamo di alimentarlo giriamo un ruolo così via in mezzo ok, lo alimento qua non dà segni di vita perché ancora non abbiamo programmato non abbiamo programmato niente ci trasferiamo un attimo su Unblock vediamo di capire un attimo la logica del funzionamento qualche libreria e quant'altro dopodiché andiamo a vederlo in azione bene, eccoci al computer siamo nel nostro ambiente Unblock quello che usiamo normalmente per pilotare Arduino quindi andiamo nella zona collegare andiamo su porta seriale scegliamo la COM5 verifichiamo dalla cartella robot che ok, il nostro Arduino è collegato allora, cosa faremo? ancora una volta programmeremo Arduino avremo bisogno sicuramente di un per sempre però quello che mi interessa in questo caso è andare a lavorare su una libreria che ha già inglobata all'interno praticamente i comandi la gestione del mio driver ricordo che il driver lavora sull'ULN 2003 quindi io direi andiamo nella parte estensioni gestisce estensioni e ad esempio andiamo a cercare come quindi sulla parte disponibile quindi sulla parte che c'è sul web prendiamo ad esempio stepper step motor ok, vediamo che ok lui ci sta presentando questa libreria è la libreria che vorrei utilizzare oggi è questa creata da questo suruku è molto semplice ha pochissimi comandi quindi è il caso di utilizzare questa per la lingua adesso vi spiego un attimo come funziona normalmente quindi lo scarichiamo ovviamente ok ha finito praticamente di scaricare quindi se andiamo su quelle installate dovrebbe farcela vedere eccola qua Sukuru quindi chiudiamo questa parte qua e andiamo a verificare sulla parte estensioni che è esatto che la libreria sia compresa vedete c'è qua il segno di spunta al baffo quindi sulla parte robot oltre alla classica Arduino ecco dovremo trovare ecco questa parte di suruku allora il problema spesso incontreremo questo problema è che io non posso avere un collegamento diretto da da Mblock verso verso Arduino a vedere se funziona in questi casi soprattutto tutte le volte che lavoreremo col motore dovremo trasferire il codice su Arduino e quindi andare a verificarne poi il corretto funzionamento comunque torniamo un attimo ai nostri comandi quindi la libreria vi dicevo veramente semplice quindi è composta praticamente da tre elementi quindi primo secondo e terzo vediamo cosa succede come faccio a capire cosa c'è scritto qua dentro allora è abbastanza intuitivo nel senso che il primo elemento ci dice qual è il motore io posso configurare più di un motore ovviamente il 2048 sarà il numero di passi questo in 1 in 2 in 3 in 4 le abbiamo visti sul mio stepper quindi motor.it questo sarà la velocità e adim sarà invece il numero di passi ma non che capisca questa lingua strana ma semplicemente perché se io vado a collegare tutto su Arduino su programma Arduino pardon e ci faccio un clic sinistro lui mi apre la scheda di Arduino e qua c'è la traduzione praticamente nell'idee di Arduino dei comandi quindi per far finta di saperne tanto se io dovessi togliere praticamente questa parte qua guardate adesso questa parte stepper motor 2048 che sono i numeri che ci sono qua scritti un po' a rovescio se io vado a togliere questo aspetta che forse riesco ok vedrete che mi sparisce quella riga quindi questa riga cosa fa mettiamola dentro mi dice ah sta dichiarando praticamente un step motor 1 con 2048 passi 8 9 10 11 che rappresentano nell'ordine i pin che ho utilizzato io su Arduino vedrete che questi sono un po' a rovescio rispetto a quelli che mettiamo noi ma possiamo provare entrambe le configurazioni l'importante è che lui passi da uno all'altro con la sequenza che gli ho dato io ok con la stessa tecnica che abbiamo visto possiamo capire ma cos'è questo valore qua aggiungiamolo non ci ha aggiunto niente probabilmente siamo un po' troppo in alto ok ah ecco qua si invece ce l'ha aggiunto nel setup quindi se io vado a toglierlo ah si perché vale 6 possiamo rimetterci qua 3 ad esempio vediamo che cosa ci cambia punk ah ecco qua vedete che in quel caso era 6 quindi c'era già lui da una velocità di base step speed set speed quindi set la velocità a 6 quando io gli ho detto no facciamo che vada a 3 allora lui quella default non ce l'ha cancellata non so perché ma ci ha messo praticamente la velocità con cui deve girare il motore che è 3 quindi questo motor hits rappresenta appunto la velocità con cui girerà il mio motore ci manca l'ultimo anche questo lo andiamo ad aggiungere vedete che qua ci dice sempre step motor 1 che cos'è step motor 1 è quello che lui ha dichiarato qua ok che è un oggetto di tipo stepper con queste caratteristiche adesso non sto a fare insomma cedi di programmazione o altro perché non è questo lo scopo però quindi su questo oggetto io ho fissato praticamente la proprietà speed a 3 e invece ho la proprietà step quindi numero di passaggi pari a 500 quindi eseguendo questa roba qua cosa fa lui beh dice che questo motore con questi parametri qua girerà una velocità pari a 3 e farà 500 passi ok bene torniamo un attimo una volta che ho capito come funziona questo diciamo che questa parte qua è la parte di inizializzazione si fa una volta sola la parte di velocità stessa cosa la faccio una volta sola per l'esempio che sto facendo poi per altri esempi possiamo fare quello che vogliamo posso supporre ad esempio per sempre quindi dentro il ciclo di fare che cosa? di fargli fare che so se 2048 sono un giro completo facciamo 1024 quindi mezzo giro fai mezzo giro ti riposi un attimino magari un secondo dopo di che facciamo tasto destro duplica fai che ritorni subito a casa quindi facciamo un meno 1024 ok ora come faccio? dovrei provarlo ma per provarlo non posso fare doppio clic perché? perché questa libreria ci dice guarda che questa libreria rimane col palino rosso cioè per far funzionare questa io devo scaricarlo su arduino ok ma anche le altre che usavo che ho usato prima magari le useremo per qualche altra lezione visualizzo estensioni in questa vedete che anche questa che funziona con lo stepper motor e ha molti più parametri molte più cose da vedere quindi ho cercato di semplificare almeno per la prima lezione quindi nascondi estensioni vedete che queste hanno il palino rosso quindi anche se sono collegato eccetera eccetera non può funzionare non ha un feedback da arduino ragione per cui faccio clic tasto sinistro mi riapre questo a questo punto carica su arduino e in men che non si dica ci dà il risultato del caricamento vediamo un attimo ok caricamento terminato e lui sta già funzionando ci spostiamo un attimo sul computer vi faccio vedere un attimo come funziona sul telefonino ok eccoci tornati sul telefonino quindi possiamo iniziare a capire cosa sta succedendo il codice l'abbiamo visto è veramente banale qua io vedo delle luci che non so se si apprezzano ma stanno cambiando in maniera molto molto veloce e queste rappresentano praticamente vi ricordate il discorso che abbiamo fatto prima sulle fasi come sto alimentando non sul bipolare ma noi stiamo lavorando sull'unipolare quindi ogni volta che si accende un led vuol dire che il corrispondente avvolgimento viene messo a massa ok e quindi si accende il led ricordate che la VIN è quella centrale in questo caso le due VIN i due collettori centrali sono messi assieme comunque la cosa importante cosa importante è che il motore sta girando vedete ho messo una fascetta di elettricista un attimo tagliata proprio perché volevo in qualche modo dare l'idea del movimento anche perché ho messo una velocità che è veramente bassa vi consiglierei di lavorare con velocità basse quello che possiamo vedere facciamo un paio di prove ecco giusto per capire come stanno cambiando questi intervalli beh posso pensare prendo un attimo il telefono e andiamo sul computer che è rimasto diciamo tale posso pensare ad esempio di modificare la velocità invece che 3 mettiamo la velocità veramente bassissima quindi possiamo mettere ad esempio 0.5 e in questo caso trasferiamo su Arduino vediamo quando arriva il segnale qua su Arduino ok il caricamento è terminato vedete che adesso le lucette hanno rallentato tantissimo ok si inizia a vedere veramente qual è la sequenza di come si chiama di avvolgimenti che lui sta in qualche modo alimentando se andiamo a vedere il mio motore passo passo il mio stepper motor sembra che non si muove in realtà si sta muovendo sta facendo però mezzo passo alla volta ok questa è veramente una situazione limite perché a meno che non debba fare dei controlli veramente di precisione particolare dovrei dare una velocità un po' più alta proviamo a stressarlo invece dall'altro verso quindi non vi consiglio di salire troppo con le velocità perché questi non hanno una buonissima qualità i motori e perdono magari dei passi però se io vado ad esempio a scegliere una velocità pari a 6 che era quella che ci dava i default carica su Arduino vediamo che succede intanto ci accorgiamo subito che le luci inizieranno a muoversi in maniera molto molto più veloce ok adesso il caricamento è terminato ok le luci praticamente sembrano fisse accese ok adesso fa un verso l'altro e la velocità del motore inizia a cambiare vedete che fa mezzo giro ecco qua sta già iniziando a perdere qualche passo vedete da una direzione molto più preciso e nell'altra invece stenta perde qualche passo allora posso pensare di fare così arriviamo nel codice questi motori insomma sono quello che sono ne vedremo degli altri magari meglio allora posso fare che so l'andata la facciamo a una velocità e il ritorno lo facciamo a un'altra velocità quindi l'andata mi sembra che fosse decente quindi aspettate che sto facendo un accello con una mano duplica ok questo lo metto in mezzo ok e gli dico fai l'andata a 6 e fai il ritorno a 3 e sempre per 1024 questo lo vado a mettere qua dentro collego arduino e vediamo cosa succede ok sto ancora caricando ok terminato bene andiamo a vedere che succede allora qua sta andando la parte piano adesso torno indietro con una velocità differente qua adesso non sta perdendo passi né niente ok diciamo che grossomodo abbiamo iniziato a capire come funzionano questi questi motori io vorrei magari interrompere qua la lezione per evitare di allungarsi troppo come i tempi quello che posso fare è iniziare a pensare all'applicazione che vedremo la prossima volta quindi possiamo pensare ad esempio a una cosa di questo tipo un pannello da mettere praticamente qua sopra anche di cartone insomma io uso molto il cartone per fare queste cose perché poi si butta via tutto e finisce quindi mettere un cartone sopra dopodiché mettiamo un'asta un'asta che tiene conto praticamente della posizione e facciamo andare avanti e indietro il mio motore il grosso limite di questi motori rispetto ai servo è che io non ho collegato praticamente all'angolo del mio del mio motore non ho collegato nessuna variabile quindi tra virgolette si dice in gergo che non ha memoria di quello che sta succedendo quindi se io adesso stacco l'alimentazione la riattacco quindi facciamo una prova io stacco l'alimentazione lui non sa che punto era arrivato del ciclo precedente come io la riattacco lui riprende a fare le cose di prima quindi se la prima parte gli diceva fai mezzo giro in senso antiorario lui obbedisce quindi adesso guardate lui adesso dovrebbe tornare indietro ok io gli tolgo l'alimentazione e gli dico che riparte da capo gli ridò l'alimentazione lui cosa fa fa nuovamente il mezzo giro in senso antiorario questo è un po' il limite dei motori a differenza dei servo che invece memorizzano l'angolo l'angolo che serve come facciamo a risolvere come facciamo a risolvere questo beh possiamo pensare di usare dei fine corsa quindi io dovrei avere qua dovrei avere se non l'ho buttato via ecco qua ho praticamente dei piccoli interruttori sono dei fine corsa che potete tranquillamente trovare nei mouse nei vecchi mouse e cosa fanno questi fanno ok se si vede o si sente sentite che fanno click quando io ci vado a cliccar dentro ne avevo uno anche collegato adesso non so dove finito ma eccolo qua quindi possiamo pensare di avere già il materiale pronto mi prendo uno di questi praticamente che fa il mio contatto qua vedete ho messo una fascetta da elettricista quindi la mia idea è metto qua il mio fine corsa così quando la fascetta tocca in questo caso a vero per i bloccarlo bene non riesco quindi tocca io ho trovato praticamente lo zero in base a quello faccio i miei spostamenti degli angoli che voglio ok direi che per questa lezione è tutto ci continueremo la prossima lezione tranne molto spero arrivederci ciao ciao